When your eyes get heavy and your feet can't touch the ground Love will never let you down Love will never let you down Oh no Stiamo combattuto fino alla fine Insomma una buona partita oggi Finalmente dopo una serie di prestazioni Non al meglio delle nostre possibilità Sì e oggi sapevamo che giocavamo contro la Serbia Una nazionale molto competitiva Che punta a un buon piazzamento in questo torneo Fatto stare che comunque a mio parere Abbiamo giocato la partita più bella del torneo Abbiamo come dire Siamo riusciti a far vedere qual è il nostro potenziale Anche se non possiamo competere con le nazionali più forti Ma comunque siamo soddisfatti per una bella partita che abbiamo fatto Grazie a tutti